E' stato presentato sabato 26 novembre alle ore 17 la terza edizione del volume di Padre Placido de Maester, catechismo liturgico del rito bizantino, nell'ambito dell'edizione speciale della settimana della cultura calabrese nella biblioteca Suor Maria Teresa Grasso dell'Istituto Maria Teresa De Vincenti a Commenda di Rende, provincia di Cosenza. Sono intervenuti Monsignor Donato Oliverio, Vescovo di Lungro, la preside del liceo pedagogico De Vincenti, Suor Immacolata Gigliotti e Demetrio Guzzardi, editore di Progetto 2000. Il beato Francesco Maria Greco mostrava grande amore verso il rito greco che si è particolarmente manifestato con la creazione all'interno della congregazione religiosa Piccoli Operai dei Sacri Cuori, da lui fondata, di una sezione di suore italo-albanesi, aprendo nel 1928 ben quattro case in alcuni paesi della diocesi di Lungro. Il catechismo liturgico del rito bizantino è composto in forma dialogica, all'ordine e l'esposizione, chiara e coincisa, fa comprendere e ammirare le bellezze di detto rito. Il beato nacque ad Acri, in provincia di Cosenza, il 26 luglio del 1857. Vincendo le resistenze del padre, che sperava di fargli ereditare la professione di farmacista, decise di diventare sacerdote. Dopo l'ordinazione avvenuta il 17 dicembre del 1881, completò gli studi di teologia a Napoli. Nel settembre del 1887 divenne parroco nella chiesa di San Nicola di Bari ad Acri e l'anno successivo fu nominato arciprete. Persuaso che è educando alla fede che si educa alla vita, Monsignor Greco guidò le suore al servizio verso i poveri, dell'altopiano della Sila e in numerose altre opere, sorte tutte dalla sua intensa preghiera. Morì ad Acri il 13 gennaio del 1931. È stato beatificato il 21 maggio 2016 nello stadio di Cosenza. Da Cosenza per il messaggero italiano Antonio Calisi.